Musica Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca una tragedia lungo le strade dell'Aretino a perdere la vita a Pieve e Santo Stefano. Clarissa Burzi, una giovane di 15 anni. Clarissa aveva solo 15 anni e lei, l'ultima vittima della strada nell'Aretino, è morta in seguito ad un incidente stradale con il suo scooter che è accaduto proprio in questa provinciale. Siamo a Pieve e Santo Stefano, Valtiberina, Aretina. Clarissa Burzi stava viaggiando nella provinciale 77, la Tiberina che porta verso Sansepolcro. Erano da poco passate le 19 in questo tratto di strada. In località Le Salaiole la ragazza ha improvvisamente perso il controllo del mezzo a due ruote. Secondo una prima ricostruzione avrebbe colpito prima un colonnino a bordo strada, poi ha sbattuto contro il cartello della fermata del bus. Nell'impatto ha battuto violentemente la testa sul posto i sanitari del 118 e il Pegaso, ma per Clarissa non c'era più nulla da fare. È morta sul posto. A chiamare i soccorsi sono stati gli abitanti della zona. Io ho sentito il botto da dentro casa, mio fratello era sotto e abbiamo sentito proprio il botto. Abbiamo chiamato subito il 112 che sono arrivati quasi subito, poi è arrivato anche il Pegaso. Assieme ai mezzi del 118 anche i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica della tragedia e che sono tornati sul luogo dell'incidente anche questa mattina. Sul caso, indaga la procura di Arezzo, è stato aperto un fascicolo come da Iter per omicidio stradale e sono stati sequestrati il motorino e il casco. Clarissa era una studentessa delle superiori, viveva a Pieve Santo Stefano con la famiglia. Tanti i messaggi di Cordoglio, il primo, quello del sindaco di Pieve Claudio Marcelli. Vorrei esprimere a nome della comunità di Pieve Santo Stefano la nostra vicinanza alla famiglia in questo momento di mane e dolore. Credo non esistano parole che possano in alcun modo lenire il vostro stato d'animo. Una tragedia che sconvolge un'intera comunità, una ragazza così giovane. Esattamente. Un altro terribile incidente si è verificato in Valdichiana dove un bambino di 5 anni è stato trovato privo di sensi nella piscina di una struttura ricettiva. È stato trasportato all'ospedale pediatrico Meyer in codice rosso. Tragedia sfiorata in una struttura ricettiva di Pieve Maiano nel comune di Civitella in Valdichiana. Un bambino di 5 anni è stato trovato privo di sensi in piscina. Il piccolo che si trovava in vacanza con la famiglia è stato rianimato e trasportato in codice 3 all'ospedale Meyer di Firenze dove non sarebbe in pericolo di vita. Un terribile incidente sul quale spetterà i carabinieri fare piena luce. Nelle ultime ore è stata proprio la misericordia di Arezzo a stilare un decalogo di buone pratiche per prevenire e gestire il rischio di incidenti in acqua che solo in Italia superano quota mille all'anno di cui almeno 400 mortali con una prevalenza di giovani tra le vittime. Dunque per prima cosa è fondamentale valutare le proprie altrui capacità natatorie anche in rapporto alle condizioni ambientali. Mai poi trovarsi da soli in acqua e non distogliere lo sguardo dal diretto controllo visivo sui minori specie sui bambini. Prestare anche estrema attenzione allo sbalzo termico tra fuori e dentro l'acqua ed evitare di entrare in acqua se non ci si sente in perfette condizioni di salute. Sempre la misericordia consiglia poi di attendere almeno 4 ore dopo i pasti principali e due dagli spuntini ed ancora non forzare mai le proprie prestazioni. Inoltre il consiglio è quello di non arrampicarsi sulle scogliere ed evitare di tuffarsi da mezzi in navigazione sia fermi che in movimento. Infine nuotare sempre nelle apposite aree dedicate ai bagnanti ed evitare la prea se non sottodiretta sorveglianza visiva evitando anche l'iperventilazione forzata. La misericordia ricorda anche che in caso di necessità è meglio evitare di entrare in acqua e il rischio nel soccorso è infatti statisticamente più alto per il soccorritore che per chi è in pericolo ma piuttosto chiedere aiuto inoltrando una chiamata di soccorso al numero unico europeo per le emergenze 112. Ancora un incidente lungo l'autostrada del Sole. Due uomini, uno di 52 e l'altro di 54 anni, sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale della Gruccia di Montevarchi. L'incidente è poco prima delle 11 nella tratto a Retino in direzione nord. Poco prima alle 9.40 un altro schianto nella stessa corsia, in questo caso fortunatamente senza feriti. Ed il 118 è intervenuto anche poco dopo le 14 per un incidente in moto lungo la statale 73 nel comune di Anghiari, ferito una trentotenne trasportato in codice 3 alle scotte di Siena con il Pegaso, sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. In Casentino invece una pioggia di denunce. Sono stati infatti i carabinieri della compagnia di Bibbiena durante il fine settimana a siglare numerose attività di controllo straordinario del territorio, con particolare riferimento alla sicurezza stradale. I militari hanno concentrato così la propria attenzione lungo le regionali 70 e 71, dove sono state fermate 40 auto e identificate 70 persone. Altrettanto numerose sono state le sanzioni, combinati i ritiri di patente. Sono scattate, come detto, anche alcune denunce, in un caso per un uomo sorpreso alla guida sotto effetto di stupefacenti, di un sessantenne invece perché trovato con una tira pugni. Tre soggetti in Macedoni sono stati denunciati invece per un raggiro e infine nei pressi della stazione è stata individuata una persona che era stata raggiunta da un ordine di carcerazione emesso dalla Tribunale di Sorveglianza di Firenze. E dalla Casentino ci spostiamo in Valdarno, a San Giovanni Valdarno. Cresce infatti la preoccupazione per la scia di furti che si è registrata e a chiedere un intervento adesso è confesercenti. La scia di colpi e danni delle attività commerciali di San Giovanni Valdarno preoccupa non poco i negozianti. Sono infatti almeno dieci furti registrati nell'ultimo periodo tra i negozi della cittadina valdarnese. Addirittura c'è chi ha subito più di un assalto. A farsi portavoce adesso della preoccupazione è sempre più diffusa e confesercenti che chiedono un intervento risolutivo ed immediato per mettere fine al fenomeno che si sta prolungando nel tempo. Come confesercenti dichiarano abbiamo in più occasioni sollecitato la prefettura, l'amministrazione comunale e le varie forze dell'ordine per chiedere maggiori controlli oltre che un'attività di indagine per risalire ai responsabili. Abbiamo apprezzato la volontà di dare risposte alla cittadinanza ma purtroppo la realtà è che i furti continuano a danneggiare e preoccupare i commercianti. L'escalation di raid tra le attività tiene con il fiato sospeso chi quotidianamente alza la saracinesca garantendo un presidio sociale. In una fase storica concludono in cui le attività commerciali fanno fatica a far quadrare i bilanci delle loro attività, ogni furto e qualsiasi danno ai negozi mette a rischio non solo la tranquillità dei commercianti ma anche la stessa sopravvivenza dei negozi. A volte i danni alle vetrine e punti casse alle porte di ingresso sono infatti maggiori del furto in sé. Restiamo in Valdarno per tornare a parlare dell'ospedale della Gruccia a prendere parola nuovamente la sindaca di Montevarchi Silvia Chiesai Martini. È nuovamente la sindaca di Montevarchi Silvia Chiesai Martini a tornare a parlare delle criticità all'interno dell'ospedale della Gruccia. Lo ha fatto tramite due post sui social nei quali mostra con altrettanti video le condizioni in cui versa la struttura. La prima cittadina poi elenca le varie segnalazioni ricevute dai cittadini negli ultimi giorni dai pazienti che hanno atteso oltre 14 ore per un'ambulanza al pronto soccorso invaso dalle zanzare. La sala operatoria poi sarebbe stata chiusa, racconta sempre la sindaca proprio per una bonifica anti-zanzare per la seconda volta in due settimane. Nel secondo video postato invece inviato da un cittadino si nota la presenza di cavi scoperti in sala d'attesa. I video che sto pubblicando, scrive Silvia Chiesai Martini, hanno lo scopo di rompere la cappa di silenzio e indifferenza della regione dell'Astra nei confronti della Gruccia per riuscire assieme a dare voce alla nostra sanità che va avanti in questo stato da anni incurante delle numerose testimonianze di pazienti e laboratori. La funzionalità della Gruccia, conclude, deve essere una priorità per tutti. Anche il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, interviene sulle questioni relative al campo sanitario. Serve un cambio di passo per la sanità in Valdichiana, dichiarato a partire dalla nomina del nuovo direttore del distretto socio-sanitario Valdichiana Aretina, affidato ad Interim dallo scorso luglio alla dottora Nota Giacomo, già direttore della zona distretto Aretina. Per poi passare all'ospedale Santa Margherita, dove dichiara il primo cittadino, si nota una netta dicotomia tra i continui annunci di assunzioni del personale tra medico e paramedico e invece la dura realtà di stancabili file agli ambulatori o pronto soccorso. Ed infine conclude per approdare alla Casa della Salute, dove devono essere effettuati i lavori del PNRR per trasformarla in casa della comunità ABB, ma dove una volta conclusi i lavori e la struttura si dovrà riempire dei servizi e personale. Ed ancora sanità, sono infatti iniziate questa mattina da Rezzo Fiere le prove per quattro concorsi Start Smart promossi dalla Regione Toscana per incentivare la carriera e le prospettive occupazionali di giovani medici in alcuni presidi delle aree interne dell'azienda Asla Toscana Sud-Est. Sono oltre 50 le candidate e i candidati che questa mattina si sono presentati dopo aver risposto ai bandi per quattro posti nelle discipline di radiologia, medicina interna, organizzazione dei servizi sanitari di base e psichiatria. La Regione Toscana sarà anche tra le prime in tutta Italia a dare il via ad una campagna universale gratuita rivolta a tutti i bambini nati dal 1 aprile 2024 per proteggerli dal virus respiratorio sinciziale. L'agente patogeno responsabile della maggior parte delle infezioni acute e delle basse vie respiratorie nei piccolissimi, in particolare le bronchioliti. L'investimento della Regione Toscana per questa campagna di immunizzazione si stima che supererà i 3 milioni di euro. E parliamo ancora di piccoli, di bambini. Ad Arezzo infatti arrivano più spazi educativi. I nidi municipali rispondono già al 77% delle richieste, ha dichiarato il vice sindaco Lucia Tanti. Sono stati programmati altri 80 posti nella fascia 3 mesi e 3 anni e questo sarà un incremento che, a parità di richieste, ci porterà a ridurre le liste di attesa sotto il 15%, dando riscontro positivo all'85% delle famiglie. Il vice sindaco dunque conferma quanto già più volte è annunciato, ovvero l'aumento dei posti disponibili nei nidi comunali per i quali sono aumentate le richieste. Si è trattato infatti di una crescita che dal 2019 alla 2020 è stimata del 63%. Si apre dunque un nuovo triennio di investimenti per aumentare i posti nei nidi e si parte proprio con i lavori alla nido in località. Il matto, commenta l'assessore Alessandro Casi, per poi proseguire a Sitorni e quindi a Battifolle in attesa di altre risposte in centro città e del nuovo nido Colombo che è già in fase di esecuzione. E adesso andiamo in Casentino, una meta sempre più scelta dai turisti. Il Casentino come sta andando sotto un profilo turistico? Siamo ora veramente fuori dagli anni più brutti, insomma, che ci lasciamo alle spalle. I turisti stanno scegliendo questa vallata? Sì, allora noi abbiamo iniziato una promozione turistica come Parco Nazionale, rivolgendoci al target giusto, cioè al target naturalistico, perché naturalmente non possiamo competere con il target delle città d'arte, perché non abbiamo grandi città, non possiamo competere neanche con il target che ricerca, diciamo, gli aspetti culturali, artistici, anche se abbiamo qualcosa da dire, ma siamo troppo vicini a Firenze e ad Arezzo per poter essere prevalenti in questi settori. Quindi abbiamo scelto il target naturalistico. Rispetto ad altre aree protette abbiamo appunto dei valori aggiunti in più e quindi abbiamo un turismo che arriva anche per visitare luoghi di spiritualità come Camaldoli e Laverna. Abbiamo davvero pievi, castelli, storia, arte, cultura, letteratura, quindi Dante che cita luoghi ancora oggi visitabili nella Divina Commedia, Dino Campana che nei canti orfici descrive un percorso che da Marradi arriva fino a Laverna, quindi attraverso il Parco Nazionale, ecco noi ci siamo rivolti a questo target e abbiamo avuto una crescita costante ed importante dal 2013 fino a oggi. I numeri continuano a crescere, credo che noi possiamo davvero dire la nostra in questo senso. Naturalmente il turismo come in tutti i luoghi italiani che già di per sé l'Italia è una meta turistica importante, non possono essere l'unica voce di PIL, quindi dobbiamo pensare che il turismo aiuta l'economia di un territorio ma non può essere l'unica economia. Musica, spettacoli, conferenze, laboratori, gastronomie ed artigianato, l'Arezzo Celtic Festival festeggia così il suo decimo anniversario. L'appuntamento è fissato da venerdì 26 a domenica 28 luglio al Parco Pertini in Via Giotto che ospiterà un programma di oltre 60 iniziative a partecipazione gratuita che si susseguiranno nel corso delle tre giornate e che permetteranno di vivere un viaggio indietro nei secoli sino ai tempi decelti, romani e italici. E una serata storica è anche quella proposta di giovedì sere d'estate a Lucignano. Si tratta della revocazione di Scannagallo che fu combattuta 470 anni fa da Senesi e Fiorentini a 450 anni dalla morte di Cosimo I de' Medici e di Giorgio Vasari. Gli appuntamenti dell'estate a Lucignano poi proseguiranno per tutto il mese di agosto con apertura il primo del mese dedicata alla Giotto e un calendario sempre ricco di proposte originali e di grande richiamo. E sempre in Valdichiana è tutto pronto anche per la 62esima edizione di Cortona Antiquaria che aprirà il prossimo 24 agosto. Al centro convegni Sant'Agostino in Via Guelfa torna la più antica manifestazione italiana interamente dedicata all'antiquariato nelle sue produzioni migliori e prestigiose. aprirà infatti al pubblico sabato 24 agosto l'edizione 62 di Cortona Antiquaria. 18 gli espositori presenti provenienti da Italia e Spagna tra le opere, tele, tavole, sculture, arazzi, argenterie, tappeti e complementi d'arredo tra cui spiccano diversi preziosi oggetti fra cui un San Giovanni Battista di fine 400 oltre ad un olio su tela ottimamente conservato che reca un ceomo cinquecentesco ed ancora una natività con adorazione dei pastori della fine del Seicento ed infine un sarocco in legno policromo del primo Cinquecento. Come ogni anno in programma anche una serie di iniziative a later ed una mostra che arricchiscono l'iniziativa in corso sino all'otto settembre e a repittura futurista il tema della collaterale della sessantaduesima edizione di Cortona Antiquaria. Tra le iniziative collaterali l'annunciato spettacolo del primo settembre in piazza Signorelli Panariello contro Masini in cui il cabarettista e il musicista si sfidano a colpi di battute e brani musicali. Infine, come ogni anno, ci sarà la serata dedicata al premio Cortona Antiquaria conferito ad una personalità legata alla città particolarmente degna di nota. A breve sarà svelato il nome del vincitore dell'edizione 2024. Torniamo in città la cantautrice Paola Turci e il giornalista Gino Castaldo assieme in Il Tempo dei Giganti uno spettacolo musicale per celebrare il triennio d'oro della musica italiana con pezzi di Dalla, Battiato, Guccini di Andrè, Battisti, Daniele e tanti altri. Sarà questo il nuovo ed imperdibile appuntamento dell'estate in fortezza 2024. L'appuntamento è per giovedì 25 luglio alle 21. Alla Casa Museo Ivan Bruschi giovedì 25 luglio alle 20.30 all'ultimo incontro dell'ottava edizione dell'iniziativa Yoga e Arte con lo speciale appuntamento Genitori e Figli che nasce dall'idea di creare un momento di divertimento e complicità familiare. La lezione sarà condotta dall'educatrice Elisa Bertocci insegnante di yoga per i più giovani e avrà una durata di 45 minuti. E adesso la pagina dello sport tre successi internazionali per Matilde e Mariani. La 22enne, atleta del tennis giotto ha infatti vissuto una lunga trasferta sino al Sudafrica dove è scesa in campo in una serie di tornei nella città di Ilcrest riuscendo a centrare la prima vittoria in singolare della sua carriera nella circuito ITF World Tennis Tour e due affermazioni nel doppio. L'estate del tennis giotto è caratterizzata da un'intensa attività internazionale con numerosi tornei in Italia e all'estero con alcuni dei suoi migliori atleti. A spiccare soprattutto la convocazione di Raffaele Ciurnelli nella Nazionale Italiana Under 16 per l'Eriopeiana Summer Cup. La scuola basket invece comunica il prolungamento del contratto con l'atleta Giannicelli Gianmarco che rimane dunque in amaranto dopo l'esperienza dello scorso campionato classe 2002 ad Arezzo è andato sette volte in doppia cifra di realizzazione con la miglior prestazione nella gara casalinga contro Cecina quando ha realizzato 16 punti. Con questo innesso si chiude la campagna acquisti della scuola basket Arezzo in vista della prossima stagione sportiva che prenderà il via con l'inizio della preparazione previsto dopo Ferragosto. Questa PRS serrerà l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci.